Con l'entrata in vigore del DPCM firmato ieri dal Premier Conte è scattato in tutta Italia il mini lockdown, norme in vigore fino al 24 novembre per cercare di piegare la curva del contagio. Dopo le 18 non sarà possibile sedersi a un tavolo per l'aperitivo o prenotare al ristorante e non si potranno consumare cibi e bevande nelle piazze o per strada. Dalle 18 chiudono bar e ristoranti in tutta Italia ma Cecchi la Sara Cinesca sarà costretta a tenerla abbassata per un mese intero senza la possibilità di aprire neanche fino alle 18. Io lavoro dopo le 18, devo stare chiuso perché dalle 18 in poi la mattina non lavoro, è un grande problema questo per me. Spero che prendano dei provvedimenti lo Stato quando riguarda queste chiusure così perché non avendo entrate non sappiamo nemmeno come fare per pagare i fitti, non ho dipendenti però lo stesso un'entrata non ce l'ho poi, quello è il discorso. Noi siamo un'attività prettamente serale che normalmente apre alle 18.30 quindi per noi questo decreto significa chiusura totale. Noi abbiamo dei costi chiaramente oltre all'affitto, le utenze, poi non ci dimentichiamo che novembre è un mese di scadenze quindi di contributi, tasse varie che sicuramente sarà impossibile sostenere. Io credo che sarebbero serviti esclusivamente dei controlli maggiori che a mio avviso sono praticamente inesistenti. Cioè nelle attività che comunque vengono mantenute tutte le precauzioni, dove comunque si mantengono i distanziamenti, dove comunque ci sono tutte le norme di sicurezza io credo che la chiusura poteva...